Anna suona il tamburo L'accompagniamo? Dagli un bel ciao col tamburo Ciao! Spero che vi sia piaciuto questo viaggio all'interno di Antoniano Insieme questa realtà meno nota ma altrettanto vitale di Antoniano volevo salutarvi ricordandovi che Antoniano Insieme non è solo un centro di riabilitazione ma è anche un centro all'interno del quale viene proposta tutta un'attività di promozione dello sviluppo armonico nel bambino da 0 a 3 anni e quindi se avete voglia di vedere le nostre attività capire quali sono le proposte che noi possiamo fare anche al bambino con il genitore o comunque in situazioni assolutamente senza fragilità vi invitiamo a visitare il nostro sito che è www.onlus.antoniano.it spero davvero che vi sia piaciuto che possa essere di aiuto eventualmente a chi ne avesse la necessità o possa anche solo essere l'occasione per conoscere una realtà bolognese di cui essere orgogliosi grazie a tutti grazie mille a voi da averci ospitato tornate quando volete perfetto, grazie mille ancora grazie, ciao ciao a tutti ciao 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 Grazie.